Ciao a tutti, oggi vi posto il resoconto della scorsa terza edizione della Dragon Cup la serie di tornei formati Edison del mio canale in cui praticamente gioca la community per la precisione vi posto le decklist che ne compongono la top 8 di questo torneo ma prima di farlo vorrei ringraziare tutti quanti per aver partecipato, per avermi visto in live e soprattutto per la comprensione dato che siamo andati diciamo con un numero nettamente superiore rispetto alle altre edizioni e da una parte è stato totalmente inaspettato, di conseguenza ho avuto un po' difficoltà nel gestire tutto da solo, 32 persone per l'appunto e non avevo a disposizione nessun moderatore per aiutarmi nella cosa e niente, volevo semplicemente ringraziarvi anche perché è un grande passo per questi piccoli torneini che sto organizzando con la community considerando che la prima Dragon Cup ha avuto circa 6-8 partecipanti la seconda edizione invece ne ha avuti 10-12 circa, sto considerando anche quelli che hanno droppato in una certa e infine l'ultima edizione della Dragon Cup, appunto quella che esegue, ha avuto ben 32 partecipanti quindi in merito a questo, se siete amanti dei retroformat, quindi del formato Edison, Tenguplant, Hat, insomma del Time Wizard in generale vi consiglio di seguire, iscrivervi al mio canale e seguirmi soprattutto sia sui social per quanto riguarda news per eventi e roba varia e soprattutto far parte della mia community su Discord che si sta allargando sempre più siamo arrivati circa a 70 o 60 membri e appunto potete anche cercare qualcuno con cui giocare, passare il tempo, anche fare due chiacchiere semplicemente o semplicemente volete scrivermi qualcosa sono lì presente e rispondo non appena possibile, non appena sarò online in ogni caso ci tenevo anche a dirvi che dall'anno prossimo vorrei allargare un po' i miei orizzonti per quanto riguarda i tornei online del Time Wizard quindi non solo concentrarmi sui formati Edison per quanto riguarda appunto i tornei ma allargarmi anche con Tengu che come sapete è uno dei miei formati preferiti se non il mio preferito in assoluto e anche con il formato Pat quindi accontentare anche quella fetta di community che mi segue giustamente non mi sembra giusto diciamo non includerla diciamo in quello che faccio mi sento un po' un pater familias come si suol dire comunque vi darò news in merito ai tornei anche a fine di questo video ma per ora vorrei concentrarmi un po' sul contenuto vero e proprio ossia le decklist che vi andrò a mostrare quindi cosa è successo quella che potrei definire la sagra dell'uccello in tutti i sensi perché la top 8 è caratterizzata da gran parte appunto da Blackwing e di conseguenza anche Vaio Turbo ma soprattutto da Blackwing quindi da uccelli neri molto grossi in merito a questo farò un video più avanti penso verso fine anno in cui andrò un po' a criticare un pochettino il formato Edison questo non significa che smetterò di giocarlo ma vorrei essere quantomeno obiettivo su alcune questioni e semplicemente dare la mia opinione personale in merito a ciò comunque ottavo classificato nel lato a potto abbiamo il Vaio Turbo di Wupac mi pare è una lista abbastanza standard potrebbero saltare all'occhio lo stregone del caos che secondo me è una scelta molto molto carina e le tre prison di main che secondo me ci stanno anche per timore magari di trovarsi Cristia contro o Fata qualcosa del genere e secondo me è scelta approvata perché secondo me sto mazzo se si becca Cristia e non c'hai una way out praticamente sei morto e sepolto poi per quanto riguarda invece il side abbiamo una scelta interessante con Mono Cyber Drago di main tre Punning Rug immagino contro Monarch principalmente due Compulsory che ripeto secondo me questa è una delle carte più sottovalutate all'interno del formato sia Edison ma anche in Tengu Plant e soprattutto in quest'ultimo dato che secondo me anche in Mirror Match una carta come il Compulsory diventa veramente veramente forte dato che appunto ti fa tornare i synchro nell'exodeck e fa in mondo che magari non vadano al cimitero con un TT o una Mirror quindi toglie anche le risorse all'avversario nel cimitero per eventuali altri value o semplicemente per il dado quindi è un maggior controllo del cimitero ma semplicemente si può estendere anche contro dei Quick Throw e vabbè virus un po' staple e doppia Starlight questo ovviamente è una carta che si vede spesso inside per chi non lo sapesse viene fatto principalmente contro Blackwing per l'appunto dato che ti fa sempre attacco Icaro e spaccando nei due Starlight praticamente diventa un counter perfetto per quella giocata continuando abbiamo come settimo classificato il nostro Bafio se non soprannominato FF che praticamente ha portato l'Iceworn che è un po' particolare spicy come lista con scelte secondo me interessanti come appunto la Tripla Celestia che potrebbe sembrare strano dato che almeno io personalmente la Tripla Celestia la giocherei almeno anche con i Criceti dato che per l'appunto Criceto ti porta Rico Rico può fare un meno uno sul terreno quindi c'hai diciamo sempre un più uno mettiamo sul terreno per appunto la Celestia mentre così potrebbe apparentemente risultare un pochettino più briccosa come cosa o più pesantina però decisamente interessante poi un'altra carta che approva un sacco è l'Aurcus di Main che è una carta che personalmente gioco anche io nel mio Iceworn se appunto siete interessati alla mia versione di Iceworn è una versione un po' più turbo per l'appunto è una carta molto sottovalutata in Iceworn e praticamente cosa fa nessun giocatore può bersagliare i mostri fedeli della luce con effetti delle carte e poi vabbè in end ti mandi due carte al cimitero poi ho 1.800 in difesa quindi può pagare carte come Shura per l'appunto quindi non male come scelta doppia Laila che anche io ho una carta che sempre gioco almeno in due per in questa lista qui non mi piace il monoper e altra carta che ultimamente si vede in Iceworn è appunto la Trappolozza d'Oro che io almeno personalmente non l'ho ancora giocata ma dovrei provarla effettivamente e scelta secondo me molto anche questa interessante e giusta è il Cyber Drago di Main perché è vero anche che nell'ultimo periodo i mazzi in macchina sono sempre più giocati quindi trovi sempre la versione quella con Gear Town e Gagiltron o semplicemente Gadget TK quindi ci sta un sacco ma soprattutto anche semplicemente contro dei bittoni come appunto il 1.900 alius e Shura per il Blackwing il Cyber Drago un'ottima carta per andargli sopra poi di base io lo sapete che gioco quasi sempre a 41 carte ma Livesworn secondo me è anche uno di quei mazzi che può permettersi addirittura di giocare anche a 42 nel caso dato che appunto macina un mazzo da 40 carte risulta più stabile però c'è anche da considerare il post side continuando abbiamo un Blackwing e io di base ragazzi diciamo su questo tipo di list non mi posso esprimere molto dato che di base Blackwing non per dire la cattiveria o screditare chi lo gioca ma è letteralmente metto 3 Blackwing di tutto e a proposito di questo mi devo ricredere sul fatto di giocare Blizzard a 2 perché io lo giocavo per l'appunto a 2 ma obiettivamente mi sono reso conto giocando un po' di più il mazzo che Blizzard a 3 è veramente forte ti dà un controllo eccezionale sul cimitero quindi anche meglio per il dad e abbiamo sempre maniera di farlo qualunque modo poi abbiamo vabbè tra attacco Icaro Monovayu la Yatagarasu che è una carta per chi non lo sapesse caso che appunto vi chiediate ma perché nell'ultimo periodo si gioca questa carta uno vabbè semplicemente il pescare va bene quindi è come se giocassi a 38 carte e voi direte ma allora perché non giocare upstart goblin perché potrebbe essere un bomb bait sia per il tifone o carte che spaccano come lo stesso attacco Icaro quindi magari loro ti girano Icaro tu gli giri Iatagarasu e praticamente l'hai fregato quello si è fatto meno uno oppure ha fatto il tifone quindi ti puoi permettere di giocare un po' più sicure quindi lista abbastanza standard qua abbiamo secondo me un Blackwing costruito in maniera un po' più interessante rispetto alla norma dato che io almeno l'ho chiamato anche sul mio post Instagram quindi nel caso seguitemi anche lì sui social l'ho chiamato Blackwing Burn per il fatto che utilizzi alcune carte come cessare il fuoco il muro dimensionale e il cilindro magico perché una cosa che non viene considerata tanto quando si gioca appunto ai tornei che siano online o anche ai local sono i turni quindi le tempistiche bisogna giocare entro tot tempo facendo riferimento alla Dragon Cup dopo i 45 minuti ci sono i famosi 4 turni in cui praticamente alla fine del quarto turno chi ha più life points vince quindi giocare carte come cilindro magico e muro dimensionale per appunto cessare il fuoco aiuto non sa qualcuno potrebbe magari contestare il fatto che ci sia il doppio Icaro con doppio Vaio ma secondo me ci potrebbe stare magari Icaro lo porterà lo stesso a 3 giocando a 41 però ci può stare secondo me il Vaio nonostante sia un Blackwing normale il doppio Vaio perché anche abbiamo la Morphing Jar quindi diciamo ci permette un po' di avere più risorse al cimitero per il Vaio rispetto alla Norma quindi secondo me super approvata come scelta carta poi inaspettata in Blackwing la Morphing Jar quindi tutta meritata tant'è che poi vediamo anche addirittura 3 alla nera allarmata in extra continuando passiamo quindi alla top 4 con Drago versione di Drago questa se non erro è la base di Carpath che è un altro YukiTuber molto molto famoso in America forse secondo a Etria Kegan è un approccio al Drago che personalmente parlando non adoro però riconosco diciamo i suoi meriti e gioca vabbè il 3dblis ha anche i Rico e gli Snowman di Main che sono utili per parare determinate determinate carte la carta che un po' mi fa strano vedere di Main ovviamente pensiero mio dal giocatore di Drago è il Magna Drago che non è la carta in sé perché io personalmente la gioco in Disastered Dragon quanto invece l'assenza del Masked Dragon con il Magna Drago perché di base è un po' più morto da calare ma è anche vero che da un altro punto di vista semplicemente lo vuoi mandare al cimitero con Fusione Futura e quindi avere più giocate con appunto con i Syncrot essendo il Magna Drago un Tuner abbiamo anche la possibilità di fare 6 e 2 6 e 2 e 8 quindi non è un'idea malvagia è solo che risulta un po' più pesante rispetto magari a una lista un po' più classica di Drago dove vai a giocare appunto il Masked Dragon te lo puoi calare facilmente poi c'è da considerare che il Magna Drago è un 1.4 quindi non si becca nemmeno l'eventuale bottomless poi abbiamo anche qui il Cilindro Magico che vi accennavo accennavo prima è una carta interessante Monoprison che io giocare al onestamente forse a 2 abbiamo 3 Upstart quindi per giocare a 37 carte fra virgolette e 2 Dust Tornado insomma per fare piazza piazza pulita poi la side è anche un po' interessante abbiamo il Kiko dato che è abbastanza misto il doppio Kaios e il Cyber Drago solo Exchange questo molto 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 interessante non l'avevo notata prima System Down che è carta sottolotata perché ha un po' più paura di macchina perché gli banni cimitero e terreno e fai ciaone pagando mille è questa che secondo me ci sta un sacco giocarla in qualsiasi mazzo drago top 3 ritorniamo dalla nera lista molto standard che sfrutta i Cyber Drago di main perché ci stanno ci sta un sacco perché ripeto sempre la stessa questione dei bittoni ma anche perché con il Cyber Drago possiamo fare magari 5 2 7 quindi abbiamo accesso a un sincro livello 7 abbiamo anche il Gale quindi 5 3 8 abbiamo maniera di fare cose di base e anche qui abbiamo addirittura tripla prison e triplo attacco Igor quindi abbastanza aggressivo e le Royal Oppression invece giocate di di side con diciamo sto notando anche diciamo un side deck abbastanza predisposto contro Frog Monarch di base o quantomeno Frog dato che abbiamo 2 Mask of Restrict 2 Paling the Rug anche i Dyna fanno male Frog di base i Corvi un deck Devastation Virus quindi bello forte contro Rana seconda posizione ennesimo Blackwing che devo dire un altro ragionamento potrebbe essere allora perché non si gioca la gialla della cupidigia mi pare si chiami così semplicemente hanno lo stesso effetto solo che in più nella remota possibilità dovesse esserci uno spirit monster sul terreno dell'avversario andiamo a pescare due carte quindi di conseguenza perché non giocare una carta che ha letteralmente lo stesso effetto con un effettino in più che è vero che non succederà quasi mai però c'è e niente non so cos'altro commentare di questa lista se non il fatto di giocare mind control e my body's shield che è una carta che ho giocato in passato anche in drago e mi sembra giochi ancora sto facendo i vari test appunto con quella lista ed è una carta forte di base contro sia magari contro black queen stesso quindi magari ikaro ti spacca qualche mostro e c'hai my body's shield però è forte contro absolute zero perché absolute zero è veramente tosto da togliere e a proposito di kiro primo posto non c'è kiro non c'è proprio in top kiro che è stranissimo e dalle liste che ho visto mi pare che di kiro ce ne fosse addirittura uno o due massimo no mi sa due o tre due o tre massimo ma non di più su 32 persone stanno portando pochissimo stranamente e vincitore del torneo denikasi con bagno turbo lista standard direi meno male è molto simile a quella di prima è letteralmente uguale con la differenza che non gioca lo stregone del caos non gioca lo stregone del caos ma gioca la brigata che effettivamente ora sto notando non viene giocata in questa lista e potrebbe essere un po' problematica secondo me per il fatto di ridurre il milling cioè la millata quindi è una lista abbastanza standard di di paio turbo gourds di side molto molto interessante abbiamo oppression da stornado la seconda oppression qui e niente non so cos'altro dirvi ragazzori perché di base è una lista già abbastanza standard ecco abbastanza standard però ugualmente io faccio sempre i complimenti perché oltre al mazzo c'è anche il player quindi come gioca il mazzo quindi ancora complimenti a Danny Casey e vi ricordo che prima dei vincitori della Dragon Cup c'è il vincitore della Dragon Cup i primi due ho dato l'ingresso pagato al prossimo evento di Shuffle Deck Gaming che ne approfitto questo 23 dicembre alle 16 quindi nell'eventualità vi lascio anche il form qui sotto in descrizione per poter partecipare è un evento a pagamento con un costo ingresso di 10 euro e caso che siate interessati mettete la spunta sul mio nome per appunto al momento dell'iscrizione per supportare il canale inoltre il vincitore si è portato anche a casa una Trap Dust Shot mentre per gli altri due dei coupon ora praticamente uno dei ragazzi da top 4 aveva acquistato delle carte sul mio profilo Card Market ma come diciamo premio a questo punto gli rimborso direttamente le spese di spedizione gli faccio quella tracciata in maniera tale da compensare un pochettino mentre dovrò sentire il terzo classificato per quanto riguarda le sue preferenze sul coupon dove spenderlo quindi ragazzi io mi riconnetto a quello che dico prima per quanto riguarda altri tornei online li faremo e caso che siate interessati a tornei Tengu per prima della fine dell'anno io e ragazzi di Tengu Format Italia faremo una live stream con un torneo appunto online dedicato al formato Tengu totalmente gratuito non so se metteremo premi in palio comunque è un piccolo modo anche per far crescere la community di questo formato un po' scagato dal mio punto di vista quando meriterebbe un pochettino di più quindi vi ringrazio per aver guardato il video fino a questo punto vi ricordo sempre di lasciare un piaccio un commento iscrivervi al canale e seguirmi sui miei social e unirvi al mio salvertiscord e niente arrivederci al prossimo video see you next time wiii un pochettino di